Colpo da oltre 10.000 euro messo a segno dai gnoti in un appartamento di via Nildejotti a Canicattì. I ladri, approfittando dell'assenza del proprietario che aveva trascorso fuori la notte di ferragosto, hanno svaliggiato l'abitazione di un rappresentante di commercio di 50 anni, riuscendo a introdursi all'interno utilizzando una chiave passepartout. L'uomo custodiva in casa 2.300 euro in contanti, ma non è solo sul denaro che gli autori del furto hanno concentrato la propria attenzione. Visto che la refurtiva consiste anche in gioielli, in oro e argento, orologi e anche altri oggetti per la casa. Tutta merce che non era coperta da polizza assicurativa. Il padrone di casa, una volta rientrato e scoperta l'amara sorpresa, non ha potuto fare altro che presentare una denuncia alla stazione dei carabinieri. I militari dell'arma, una volta raccolta la segnalazione, hanno subito avviato le indagini sotto il coordinamento della procura di Agrigento. Gli investigatori stanno adesso cercando di risalire all'identità degli autori del furto e tra i primi accertamenti la verifica se nella zona sono presenti impianti di videosorveglianza che potrebbero avere registrato immagini utili in cui vengono immortalati i responsabili.